Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Gicchia Camera 89 Siamo da noi qua ad un nuovo video di Clash Royale Stiamo continuando il torneo globale strategico Non vado molto bene su questo torneo qua Nel senso che faccio dei pick davvero stupiti Come lasciare il cacciatore al nemico mi ha portato totalmente alla disfatta Cosa che se invece lo avessi avuto io Mamma mia, però è anche vero che lì il gioco mi ha voluto un attimo punire Perché nel senso ha messo Domatore e Magliari Royale Quindi truppe che non si sanno difendere eccetera eccetera Vabbè c'è un discorso dietro che adesso non mi va di prendere Però peccato, devo dire però peccato Mi devo prendere queste carte qua Cioè praticamente lui mi sta dando tutte carte che io assolutamente non posso lasciare al nemico Io queste carte non le posso lasciare al nemico Cioè se ho preso lo stregone non gli posso lasciare il mini pecca Me lo spacca Questa è devastante, non gliela posso lasciare Questo mi servirà contro la cimitero Quindi A noi ci andrà anche bene Poi lo stregone dietro al gigante Ci sta, lui ha perso uno di Elisir Lui mi perde due di Elisir Lui mi sta perdendo tre di Elisir Cioè proprio lui sta facendo le cose magiche in questo momento Certo non ho una scarica Non ho niente che mi può aiutare Ma secondo me questo qua Ah no, gioca però Inizialmente pensavo che lui non giocasse Devo essere molto sincero con voi Ok sono riuscito A fare una cosa pazzesca Ma pazzesca proprio Vi devo dire che la situazione non è delle migliori Assolutamente Ok c'ho tutte carte pesantissime in mano C'ho un botto di carte pesantissime Questo per forza qua Questo per forza qua Perché comunque Ok riesce A darmi una mano Oddio raga Sapete che È Una situazione strana Perché io non ho Non ho incantesimi C'è una partita senza incantesimi Va bene La truppa da uno ci sta a buttarla Posso capire anche Posso capire anche questo qua Adesso noi con calma Andiamo a ripulire un po' Con questo qui Quindi Ci andiamo sicuramente Ok Mi può comunque star bene Perché vedete che a destra Lui ha preso delle pizze Pazzesche Quindi a me va bene Vado sicuramente a fare così Ah ho sbagliato Perfetto Che fai Te ne privi di sbagliare No che non te ne privi Perché volevo in realtà Pushare di là Lui mi ha attirato il dragonfernale Quelli da uno Non sono un problema Perché quella torre là Se non la difende È assolutamente andata giù Io posso fare Sicuramente così Perché se glielo tiro sotto Non dovrebbe Rimanere niente Di Di quello là Meno male che non mi ha Tirato il dragonfernale Sì E comunque voi dite Ok Praticamente hai la torre vinta Eh ma mica tanto Cioè nel senso Ricordatevi sempre che In qualche modo Io ci devo arrivare là Eh Cioè non è così scontato Arrivarci Come potete vedere Come potete sicuramente Vedere Vado sicuramente a tirarmi Una mano qua Perché ne ho assolutamente bisogno Ok Quindi vado a tirare lo stregone qua Stregone Mi dovrebbe portare Un botto Un botto D'aiuto Io non ho Non ho niente Cioè o ci arrivo addosso O ci arrivo addosso Non è che mi posso inventare niente Ok è arrivato lo stregone Di là Ah vabbè comunque Diciamo che Lui aveva tutto Per difendersi Eh Io non avevo Un Incantesimo Che uno fosse stato Veramente Zero 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 Quindi Abbiamo preso quest'altra E va bene E ci va bene Andiamo avanti Vediamo un attimo Ce la stiamo procedendo Egregiamente Dai Questi qua Io li vado a prendere Eh ma non mi può fare Queste scelte qua Non mi può fare Queste scelte qua Me lo prendo Perché so che contro Contro Diventa un macello Mi vado a prendere Questo qua Che come supporto Dietro ci sta un botto E Mi vado a prendere La 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 riete Eh sto pensando Quando mi vedete che non parlo È perché sto pensando Un attimo A quello che è successo A quello che posso fare A quello che non posso fare E Io partirei Da dietro Col golem subito Forse sarà un errore Ma nella stessa lane Del nemico Quindi Ci è andata bene Su questo Ma non so se lui Ha torre infernale Dragon infernale Perché se ha quelle carte là A noi ci fa un danno Eclatante Qui siamo andati a difendere Stra bene Ragazzi eh Stra bene C'ho anche C'ho anche l'arco X Lui c'ha il cannone Io sicuramente Mi posso andare a tirare La riete da battaglia Perché secondo me Anzi andrà A buttare su quello là Vado a tirarmi E vedi Ci abbiamo avuto Sta sfortuna Tra virgolette Però ci può anche L'arco X L'arco X Ce lo possiamo tenere Come difesa Cioè possiamo Già buttarcelo Come difesa L'arco X Perché io non voglio Andare in attacco Io non ho Questa Questa voglia Così incombente Di Di andarmene In attacco Perché vedi Lui c'ha molte carte Dove mi può Arrasciare Ovviamente Lui adesso Mi sta mettendo Sotto pressione Perché sa Che ha carte Devastanti lui Cioè lui lo sa Perfettamente Vedi Quindi lui mi sta Facendo dei danni Molto Molto particolari Vedi Allora Visto che tu Mi vuoi fare dei danni Molto molto particolari E mi stai rompendo Le scatole Io cambio Totalmente I miei progetti E ti vado Ad attaccare In testa Ti vado Ad attaccare In testa Così almeno Queste truppe Lui secondo me Le ha perse tutte Ok Anch'io ho perso Questa torre Ma ne sono cosciente Allora Sapete che Lui mi ha Veramente Distrutto Qualsiasi cosa Io potessi fare Lui mi ha Distrutto Tutto ragazzi Lui mi Veramente Mi ha Distrutto Qualsiasi Cosa Io Potessi Organizzare Cioè lui mi ha Fatto dei danni Pazzeschi Lui mi ha Fatto dei danni Pazzeschi Me ne rendo conto Da solo ma Che ci posso fare Cioè L'avete visto anche voi Come si è Si è buttata la situazione Non potevo fare Ipotizzo Cioè una partita Stravinta Lui C'aveva tutte unità Io c'avevo L'arco X Che sinceramente Non ci faccio niente Va bene Ci sarebbe Da rivederla Questa partita qua Perché vorrei Che voi pure Lasciatemi dei feedback Per favore Perché Non mi sento Di aver sbagliato Così tanto Anzi vi devo dire Che secondo me Siamo stati Piuttosto sfortunati Vi devo dire questo Secondo me Siamo stati Piuttosto sfortunati Eeeh Una palla neve Mi distrugge questi Cioè me li distrugge Lo so perfettamente Cioè ma secondo voi Sono dei pick normali Questi qua O sono dei pick Che il gioco sta Decidendo per noi Non lo so Perché mo' È il nemico Che ci ha fatto la differenza Per fortuna Ci ha dato il massino Lavico Per fortuna Ci ha dato il massino Lavico Questa è l'unica Cosa che ho potuto Fare Cioè non potevo Inventarmi altro Io Cioè che cosa Mi dovevo inventare Non c'ho frecce Non c'ho niente Per andare in supporto A lui Ok Questa qua La possiamo Non mi Non mi Non mi sento Di muovermi Cioè non Non mi voglio Assolutamente muovere Qua siamo stati Sfortunatelli Tanto per Tanto per Cambiare Lui sta Continuando Con la riete Ad entrare Senza problemi Vediamo Se lui Tira una tronco Lui c'ha La spalla La spalla Di neve Vedi La spalla Di neve Danni Sicuramente Gli ne abbiamo Fatti Qualcuno Qualche dannetto Gliel'abbiamo Fatto Niente di Particolare Perché Tanto lui Con la riete Si sta divertendo Proprio un botto Lui è quel Maledetto Ariete Sicuramente Andremo Andremo A essere Un pochetto Più Incisivi Se così Possiamo Dire Sicuramente Nell'overtime Niente Lui continua Imperterrito Rega Io ma non posso Farci niente Cioè Io lo devo Far colpire In questo momento Io lo devo Far colpire Cioè non è che posso Dire Mi invento qualcosa Di impossibile Pazzesco Devo fare così Ok Tu togliermi I arcieri Per favore Lui Mi ha buttato Quello Ok Lui Di veramente Andato a prendere A perdere La torre E intanto Un piccolo problema Ce lo siamo tolto Tanto lui Continuerà Imperterrito Io provo a difendermi La torre Perché eventualmente Perché eventualmente Poi io vado A destra Perché tanto Lui sta aspettando Semplicemente Di bypassarmi Quindi vado a buttare Così Vedete Lui Mi sta buttando Le unità Secondo me In modo molto Sbagliato Vado sicuramente A fare così Ottimo che Si sono un po' Divisi tutti A me va bene Perché tanto Quella torre lì È strapersa Ottimo Vado a buttare Sicuramente Il boia di qua Che tanto Il boia è stato Eccezionale Adesso Inutile Starci a dire di no Vado direttamente Su torre principale Non mi interessa Difendermi Quella Quella torre là A me Quindi vado a splittarmi Questi Palla di neve Sicuramente Lui aveva Stra 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 perso Anche sul centrale Per dirvi Va bene Però non posso fare Che ne so Due vittorie Una sconfitta Due vittorie Una sconfitta Due vittorie Una sconfitta Cioè Abbiamo comunque Il 75% Più o meno Ho detto così Una cavolata Di ratio Di win Ma non riesco Ad andare Molto più Avanti E questo Mi dispiace Va bene signori Io direi che L'appuntamento Di oggi Può finire qua Spero che il video Vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Io continuo Perché questo torneo Mi piace molto Al prossimo appuntamento Un vostro 589 Bella ragazzi Grazie a tutti